Tra l'altro so che c'è Andrea Galassi a vedere Padova Reggiana, quindi si guarda anche oltre l'avversario. Di solito dipende un po' dal mister quando inizia a lavorare sulla squadra avversaria. Di solito si inizia verso giovedì, lavoriamo un po' più sulla parte atletica e sui nostri movimenti. Ecco, domani il Papa si arriva quasi sempre alla mattina adesso. Dipende, dipende un po' dalle settimane. È un metodo che ha introdotto il preparatore atletico. Ti trovi bene, visto che tu hai fatto tante... Sì, sì, mi trovo... Il campo sembra che tu stia dicendo da tu. E questo è importante. Vabbè, allora abbiamo finito la grafica di messaggi... Sì, sì.